In questo video voglio mostrarti i ragionamenti che sto facendo per fare un ingresso ulteriore, long, su una posizione che ho già in atto sul petrolio. Io sono Damiano Zitto, price action trader indipendente, membro e collaboratore di questa community. Questa invece è professione trader, è una rubrica dove settimanalmente condivido il mio diario di trading e quindi le mie operazioni su un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho trapreso sempre qui in Airforex. Nei giorni scorsi sono entrato long sul mercato del petrolio, puoi anche vederlo dal video precedente, sulla conferma operativa che era praticamente dettata da questo pattern di prezzo che avveniva sopra una determinata zona. Questa è di fatto un inside fake out che è un setup costituito da, in questo caso, una barra outside. C'è stata poi un inside negativa, una candela che rompe i minimi precedenti dell'inside e dell'outside bar, rientra dentro e che io poi ho tradato in realtà alla rottura della outside bar. Quindi sono entrato il 28 marzo alla rottura di questo massimo, prezzo di medio di carico a 82,41 e al momento sono ancora long. Il mercato ha chiuso una settimana bullish, molto bella la candela di forza con la quale il mercato ha lasciato praticamente la zona precedente e sembra ci siano i presupposti per continuare a rialzo questo trend, questo movimento che se mi segui da un po' dai video precedenti poi potrai vedere come in realtà avevo già fatto un primo ingresso long su questo mercato che poi in realtà ho chiuso a B.E. nel mese di febbraio e poi in realtà sono entrato su una nuova conferma, quindi a un prezzo di carico maggiore quindi 82,41 ma con un mercato un po' più costruito, quindi con meno incertezza da questo punto di vista. Poco fa abbiamo discusso in Trading Room la possibilità di fare degli incrementi long su questo mercato quindi con Arduino, Antonio, insomma gli altri membri della community e sinceramente piace anche a me questa idea io ho questa posizione che al momento appunto ha sempre il rischio iniziale dal mio ingresso 82,41 ho i miei 250 euro all'interno di questo spazio quindi ho 250 euro tra qui e qui e per fare l'incremento chiaramente ho, diciamo, delle possibilità quindi posso scegliere adesso come operare uno, posso scegliere anche di non fare l'incremento e mantenere il mio rischio o comunque ridurre il mio rischio della metà o anche poco più della metà o mettermi addirittura a break even e lasciare, diciamo, andare la posizione, vedere di mantenere un rischio più basso per poi lavorare magari su altre conferme o su altri mercati però siccome è un mercato che sto seguendo da tempo e che, insomma, ritengo possa spingere almeno un'altra settimana se non due l'idea di fare questo nuovo ingresso mi piace come posso fare questo nuovo ingresso? posso farlo alla rottura posso farlo adesso ma senza conferma sarebbe un pochino più azzardato posso aspettare la rottura e poi un ulteriore ritracciamento ma andrei, diciamo, poi a seguire un po' troppo da vicino la situazione e quindi con meno tranquillità allora, l'idea di base è che quando faccio un incremento voglio mantenere il rischio iniziale inalterato o addirittura ridurlo difficilmente vado ad alzare il mio rischio in questo caso è 250 euro questo che significa? che posso andare a innanzitutto ridurre il mio stop iniziale dai miei 74 e 90 li porto qui 78 comunque sotto questa zona ok oppure posso andare addirittura a fare quest'altra cosa qui mettere questo stop direttamente a BE quindi 82,42 diciamo e valutare in realtà, diciamo, un pochino più considerando lo spread anche se ho dei tassi di interesse positivi c'è un mercato in questo caso ha uno swap positivo sto ricevendo, sto incassando qualcosa ogni notte quindi potrei mettere anche un break even qui fare l'incremento e la nuova posizione la posso costruire in maniera tale che il rischio sia nuovamente di 250, 125 euro comunque non oltre il mio rischio iniziale di questa ulteriore opzione cioè mettermi a break even e mettere diciamo un incremento con uno stop di 250 euro sull'incremento non mi piace perché aumenta le probabilità che io poi gestisca male l'operazione in termini di volatilità questo che è il setup che mi fa entrare ha, diciamo, questo tipo di estensioni cioè la sua volatilità è questa qui insomma avrebbe più o meno zona 79,50 qui abbiamo 78,30 diciamo che la zona tra i 78 e i 79,40 potrebbe essere la zona dove andare a posizionarmi con lo stop quindi sia ridotto quindi spostare il mio stop iniziale che è quello della nuova posizione mantenendo sempre l'idea di non spostare il mio rischio iniziale oltre questo comunque sto sempre in un trend e vorrei valutare più o meno l'ampiezza dei ritracciamenti quindi qui abbiamo più o meno 290 punti diciamo 300 punti qui in questo momento abbiamo avuto 392 punti e se andiamo a vedere l'ultima diciamo l'ultima base che ha creato il mercato ecco 284 diciamo più o meno come qui diciamo 290 punti di mercato diciamo dal suo massimo al minimo anche qui effettivamente lui ha già fatto come dire da questo massimo di venerdì scorso ieri ha già fatto un picco minimo quindi un minimo di circa 290 punti diciamo si è mantenuto con la volatilità dell'ultimo ritracciamento però diciamo nessuno ci può garantire che questo non possa fare qualcosa del genere quindi aumentare diciamo l'intensità di questo ritracciamento allora quindi diciamo questo è un ragionamento però mettersi sotto sotto questi minimi allora se dovesse aumentare troppo la volatilità io sicuramente qui sotto dovessimo tornare sotto il mio prezzo medio di carico attuale e con una forte vola probabilmente chiudo la prima operazione e la seconda un costo ridotto allora andiamo a vedere un attimino come come spostarmi con l'operazione allora l'idea è che se io qui ho 250 euro di rischio 74,90 più o meno mi vorrei ridurre con uno stop della metà che a 78,60 ok sono appunto il 50% circa del del mio stop iniziale quindi 78,60 o insomma più di lì anche 78,80 volendo ok quindi abbiamo 119 vabbè 78,80 interessante si potrebbe fare anche in questo modo quindi 78,80 mi riduce il mio stop iniziale da 250 a abbiamo detto 120 euro ok quindi 78,80 perfetto l'ho già inserito ok quindi se io mi ho una prima operazione la prima operazione dove ho meno 120 euro ok volendo mantenere un rischio totale di 250 ok totale vuol dire che la seconda operazione dovrà essere più o meno 120, 130 euro ok quindi cosa significa questo? che dovesse adesso entrare ah ecco dove dove entrare diciamo che voglio entrare by stop qui sopra posso diciamo come livello di ingresso come by stop potrei mettere 86,60 86,65 però seguo un po' in questo caso il ragionamento anche che ha fatto arduino 86,70 un pochettino qualche centesimo di petrolio in più in questo caso diciamo forse è più confermativo della forza no? quindi del petrolio quindi 86,70 come come buy stop mi metto qui 86,70 dollari al barile con uno stop qui sotto quindi abbiamo detto 78,80 andrei a mettermi quindi altri 130 125 euro più o meno qui meno 130 euro questo perché io porto questa posizione dai 250 qui ok a meno 120 ok e quindi il totale fa di nuovo 250 euro di rischio meno 250 ok quindi questo è il ragionamento che insomma posso mi posso permettere di fare con questo stop più o meno quindi 78 abbiamo detto 78 e 80 va bene 118 120 più o meno siamo così quindi da qui facciamo 120 e 130 250 euro di rischio chiaramente quando è che si muove però questa questa posizione io andrò a ridurre il rischio iniziale quindi i mei 250 euro attuali che al momento stanno tra qui e qui si sposterà praticamente la la prima posizione da meno 250 meno 120 qui entrerà la nuova posizione 86 70 quindi avrò meno 130 euro qui per mantenere appunto questi meno 250 euro di rischio successivamente dovessi vedere una price action contraria dicevo se dovesse in realtà annullarmi questo questo setup e allora dovrò stare molto attento perché mi dovesse fare per esempio già oggi domani un doppio massimo lower qui molto molto volatile è probabile che a quel punto io faccia un'ulteriore gestione per esempio mettermi a via con la prima anche se aumenterebbe la probabilità di essere preso però a quel punto non mi piacerebbe molto un ritracciamento profondo vista la diciamo la price action di ieri con questo falso minimo comunque con una buona volatilità importante quindi molto interessante quindi adesso sinceramente può rimanere un po' anche a lateralizzare però non vorrei vedere ritracciamenti molto profondi tant'è che a livello di di gestione effettivamente se dovesse andare a chiudere più o meno in zona 82 quindi sotto sotto quest'area la nuova posizione effettivamente mi andrebbe a generare un costo di 75 euro quindi io sto rischiando 250 euro ma dovesse girare un po' contro questa 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 posizione andrei a chiudere più o meno su quest'area la prima posizione a break even quindi 82 40 anche manualmente o poco meno e la seconda operazione a 75 euro quindi comunque sto sto riducendo sto riducendo sostanzialmente il il mio costo il mio costo operativo ok diciamo quindi questo è sostanzialmente la mia intenzione per quanto riguarda invece quindi intenzione di incremento sul mercato e per quanto riguarda invece il target ancora non ho un cioè non l'ho non l'ho posizionato questo perché in realtà insomma visto il trend che si sta costruendo la mia idea è non mettermi con un target a 89 60 che era più o meno la zona di iniziale ma dovesse effettivamente come per come si sta impostando il mercato fare la fiammata verso verso l'alto siccome ritengo che questo mercato possa dare almeno un ulteriore settimana se non due di ulteriore spinta long cercherò di seguire il prezzo man mano è una cosa che faccio faccio spesso nelle mie gestioni cioè il target non è sempre mandatorio anche se è una zona di prezzo per esempio se lui qui torna ai 90 dovesse fare una price action che non mi convince o comunque ci arriva subito in volatilità può anche darsi che io chiuda chiuda prima la mia operazione però abbiamo dei livelli si vede qui sul settimanale di di massimo precedente 92 50 mi piace come come zona di di arrivo dove eventualmente diciamo prendere definitivamente definitivamente profitto quindi questo è il diciamo il ragionamento che sto facendo anche sul target anche se il focus iniziale è chiaramente sul rischio una cosa importante che ovviamente questo tipo di gestione cosa mi permette di fare in questo caso a prescindere dal target è una cosa che quindi io ho un rischio iniziale di 250 euro e se andiamo a vedere su questo conto ho un'operazione di 033 mini che in termini di esposizione quindi di controvalore è 2700 euro circa nel momento in cui io vado a fare un incremento quindi incremento la mia posizione attuale da con zero abbiamo visto zero circa 016 se questi sono sì 130 rimangono 016 mini la mia la mia esposizione più o meno è il 50% in più rispetto a quella iniziale cioè la nuova operazione quindi con un ingresso 8670 con un livello di uscita a costo 7880 ho un rischio totale di meno 250 euro una cfd mini 016 quindi che si vanno a sommare ai precedenti quindi un controvalore di 1426 o meno attuale prezzo attuale che si va ad aggiungere ai 2700 euro precedenti quindi bene o male il 50% di esposizione in più con lo stesso rischio poi a livello di gestione dovesse tornare indietro alla posizione molto probabilmente il costo operativo sarebbe ancora poi meno insomma non è in questo caso non è una posizione che voglio poi portare diciamo a paracadute quindi a costo pieno quindi con un rischio con un rischio iniziale 250 euro incremento mantenendo mantenendo lo stesso rischio iniziale ma aumentando anche l'esposizione quindi il il nozionale ok quindi questo è il ragionamento di oggi quindi il long il long sul petrolio sta continuando questo è l'incremento che adesso inserisco sulla mia sulla mia piattaforma anzi lo possiamo fare insieme anche adesso quindi abbiamo detto 0 16 0 ah no non lo posso fare ah ok è vero ecco cosa cosa succede adesso che non posso allora il numero di contratti il minimo numero di contratti che posso inserire su su questo conto è 0 25 quindi nel momento in cui mi entra la posizione dovrò fare questo questo giochino quindi appena mi entra la la posizione quindi il buy stop siccome io devo entrare con 0 16 e il numero minimo di contratti è 0 25 io metterò un un buy stop di 0 25 ma per avere diciamo 0 16 quindi questa questa esposizione andrò a fare subito un'operazione sul sulla mia piattaforma togliendo 0.09 CFD dal dal conto questo chiaramente per rispettare quello che è appunto il rischio iniziale e il fatto che chiaramente il broker in questo caso mi chiede una size minima per per fare l'operazione che è 0.25 euro per punto abbiamo detto che il livello di prezzo cui andrò a fare questa operazione sarà 86 70 in direzione buy e per allora per andare poi a posizionare il mio stop quindi saranno 790 punti circa si 78 80 con basta quindi una richiesta di margine limite non lo metto una richiesta di margine in questo caso di 216 euro quindi nel momento in cui mi entrerà il buy stop poi andrò a fare questo diciamo a decortare 0.09 mini dalla posizione che eventualmente entrerà in posizione spero che questo video ti sia piaciuto ci sono altri video all'interno del canale che spiegano altre mie operazioni o se per esempio ti interessa il setup che mi ha fatto entrare l'inside takeout ti invito poi a vedere gli altri video che ci sono all'interno del canale anche la price action la playlist sulla price action diversi diversi video che ti spiegano il setup il metodo del del mondo Airforex per oggi è tutto io ti ringrazio ti ricordo di lasciare un commento qui sotto questo video ci vediamo alla prossima soprattutto buon trading ciao